tanto per cambiare sono da cosco vi volevo far vedere questi completini che qui utilizzano per andare al mare oltre ai costumini ovviamente utilizzano queste magliette e pantaloncini che sono di un tessuto particolare che proteggono dal sole dai raggi ultravioletti io non so se in italia si utilizzano non l'ho mai visti però volevo farvi vedere eccoli qua guardate ci sono con le gonnelline alcuni sono tuttine intere manica lunga addirittura e collo alto che guardate li mettono anche gli adulti senza disegnini ovviamente ci sono anche abiti per le donne lunghi così di questo tessuto infatti come dice l'etichetta è 50 plus quindi protegge a un fattore di protezione più 50 quindi invece di mettere la crema indossano questi completini non lo so ditemi se ci sono anche in italia io ripeto non l'avevo mai visti io continuo a mettere la crema e perché non lo so non vederli con 40 gradi con questi cosi sento caldo solo a vederli però magari sono una cosa intelligente non lo so sono più sicuri sono più sicuri per proteggere i bimbi dai dal sole